Flinstone! Eh già, adesso se lo ricorda il mio nome. Si può sapere com'è successo? Beh, signor Slate, è cominciato quando i Ravel hanno deciso di adottare un bambino. Non quello! Come ha fatto detriti a ridursi così? Beh, vede, signor Slate, i macchinari sono impazziti e le pietre si sono polverizzate, si sono mischiate con l'acqua ed è venuta giù quella roba. Signor Slate, le chiedo scusa. Scusa? Io sono entusiasta di questa roba. Voglio chiamarla come mia figlia, Calcestruzia. Flinstone! Lei è un genio! Io? Davvero? Perché? Ma non capisce? Grazie al Calcestruzzo, l'uomo può ora forgiare il proprio destino. L'età della pietra è finita! Per prima cosa voglio che riassuma tutti gli operai, Flinstone. Entriamo in produzione immediatamente.